Barboncino più del solito oggi Perché mi incarto No, c'è nient'ava Ti taglio E mi sto raffreddando Ho tagliato, non ho bloccato la messa a fuoco Datemi da magnaccio, ho un calo di zuccheri Il cellulare nutre idrati alla pelle, ci vuole tanto? E basta Ti prego Fammi finire Salute